Il nuovo decreto rilancio emanato dal governo per la fase 2 dell'emergenza coronavirus prevede l'istituzione di un fondo per il trasporto pubblico su ferro e su gomma con una dotazione iniziale di 500 milioni di euro che serviranno a reintegrare i mancati incassi delle aziende di trasporto e a rimborsare i pendolari che avevano acquistato abbonamenti ma poi con le misure di confinamento non li hanno potuti utilizzare. I possessori di questi abbonamenti che noi abbiamo sempre sollecitato a mantenere in tasca dovranno fare domanda alle aziende di trasporto sia su ferro sia su gomma allegando la fotocopia dell'abbonamento che non è stato utilizzato e anche un'autocertificazione che dichiari sotto la propria responsabilità che questo non godimento è avvenuto per le limitazioni che erano state imposte alla circolazione. Le aziende del trasporto pubblico locale avranno quindi 15 giorni di tempo per provvedere al ristoro allungando la validità dell'abbonamento e mettendo un voucher. Grazie a tutti.